Squitty Bilbo, che non aveva nessuna esperienza di draghi, ma solo di buchi da hobbit. Stava di nuovo entusiasmandosi e prendendo interesse, sicché si dimenticò di tener chiusa la bocca. Amava le mappe e nell'ingresso ne teneva appesa una grande del territorio della contea, con le sue passeggiate preferite segnate in inchiostro rosso. Come può una porta così larga rimanere nascosta a tutti quelli all'esterno a parte il drago? Domandò. Non dimenticate che era solo un piccolo hobbit? Beh, in molti modi, disse Gandalf. Per quanto riguarda questa porta in particolare, però, possiamo scoprire come sia rimasta nascosta solo andando a vedere. Da quanto dice la mappa, immagino che si tratti di una porta costruita in maniera da sembrare una parte del fianco della montagna. Sbaglio è il metodo comunemente usato dai nani. Non sbaglio affatto, disse Thorin. Inoltre, continua Gandalf, ho dimenticato di dirvi che assieme alla mappa c'è una chiave, una chiave piccola e strana. Eccola qua. Disse e porse a Thorin una chiave d'argento dalla lunga barretta, con gole molto intricate. Tienila al sicuro. Puoi contarci, disse Thorin, e la assicurò con una catenella che gli pendeva intorno al collo, sotto la giacca. Adesso le cose cominciano ad apparire più rosee. Questa novità le migliora di molto. Finora non sapevamo bene cosa fare. Pensavamo di andare verso oriente nel modo più silenzioso e prudente possibile, fino al lago Lungo. I guai sarebbero cominciati lì. Beh, in realtà molto prima. Se so qualcosa delle strade che vanno a est, lo interruppe Gandalf. Da lì avremmo potuto risalire il fiume fluente, continua Thorin senza badarli. E poi arrivare alle rovine di Conca, l'antica città laggiù nella valle, all'ombra della montagna. Ma a nessuno di noi piaceva l'idea della porta principale. Il fiume viene fuori proprio da lì, attraverso le grandi rupi a sud della montagna. E da lì esce anche il drago. Anche un po' troppo spesso. A meno che non abbia cambiato le proprie abitudini. Non risolveremo niente, disse lo stregone. Senza un possente guerriero o addirittura un eroe. Ho cercato di trovarne uno. Ma i guerrieri sono occupati a combattersi l'un l'altro in terre lontane. E in questa zona gli eroi scarseggiano, forse non ci sono affatto. Da queste parti le spade hanno perso il filo, le asce vengono usate per gli alberi e gli scudi come culle o coperchi. I draghi, poi, sono comodamente lontani e perciò leggendari. Ecco perché ho optato per lo scassinamento. Soprattutto quando mi sono ricordato dell'esistenza di una porta laterale. Ed ecco qui il nostro piccolo Bilbo Baggins, lo scassinatore, il prescelto tra gli scassinatori. Perciò andiamo avanti e facciamo qualche piano. Molto bene allora, disse Thorin. Sempre che l'esperto in furto con scasso ci dia qualche buona idea o qualche suggerimento. E si voltò con ironica cortesia verso Bilbo. In primo luogo mi piacerebbe saperne un po' di più, disse lo Hobbit, sentendosi confuso interiormente e un po' scosso. Ma ancora da buon Tuck, determinato ad andare avanti con quella faccenda. Voglio dire, riguardo all'oro e al drago e a compagnia bella e come c'è arrivato e a chi appartiene e cose del genere. Oh gran cielo, disse Thorin. Non hai qui una mappa? E non hai sentito la nostra canzone? E non siamo stati a parlarne per ore e ore? Mi piacerebbe lo stesso avere una spiegazione chiara e semplice, disse Bilbo. Ostinato, assumendo i suoi modi professionali, di solito riservati a chi tentava di chiedergli denaro in prestito, e facendo del proprio meglio per apparire saggio, prudente, professionale e all'attezza della raccomandazione di Gandalf. Inoltre, mi piacerebbe saperne di più sui rischi, sulle spese da anticipare, sul tempo a disposizione, sulla ricompensa e così via. E tutto ciò voleva dire... Cosa me ne verrà in tasca? E... Tornerò indietro vivo? Benissimo allora, disse Thorin. Molto tempo fa, all'epoca di mio nonno Thor, la nostra famiglia fu cacciata dal lontano nord e tornò con tutti i suoi beni e i suoi attrezzi a questa montagna indicata sulla mappa. Era stata scoperta dal mio lontano avo, Train il Vecchio, ma furono loro a scavare miniere e gallerie e a costruire sale più grandi e ancor più vaste fucine. E inoltre, credo che vi abbiano trovato tanto oro e anche molti gioielli. In ogni modo, divennero immensamente ricchi e famosi e mio nonno fu di nuovo re sotto la montagna, trattato con grande rispetto dagli uomini mortali che vivevano al sud e stavano gradualmente espandendosi lungo il fiume fluente, fino alla valle dell'ombra della montagna. Lì, in quei giorni, gli uomini costruirono la prospera città di Conca. I loro re ricercavano l'opera dei nostri fabbri e ricompensavano con grande generosità anche i meno abili. I padri ci pregavano di prendere i figli come apprendisti e ci pagavano profumatamente, soprattutto con quei prodotti alimentari che noi non ci curavamo di coltivare o di procurarci noi stessi. Tutto sommato, erano gran bei giorni per noi. E il più povero aveva soldi da spendere e prestare, e tutto il tempo che voleva per fare le cose più belle per puro diletto. Per non parlare dei meravigliosi e magici balocchi, dei quali oggi non esistono uguali al mondo. Così le sale di mio nonno si riempirono di armature, gioielli, incisioni e coppe, e il mercato dei balocchi di conca divenne la meraviglia del nord. E senza dubbio fu questo che attirò il drago. Come sai, i draghi rubano agli uomini, agli elfi e ai nani oro e gioielli, dovunque possano trovarli, e fanno la guardia al proprio bottino finché vivono, il che in pratica vuol dire per sempre, a meno che non vengano uccisi. E non si godono nemmeno uno spillo di ciò che hanno rubato. In realtà i draghi sanno a malapena distinguere un lavoro ben fatto da uno fatto male, anche se di solito ne conoscono bene il valore sul mercato, e non sono capaci di fare alcunché da soli, neanche riparare una scaglietta staccatasi dalla loro corazza. A quei tempi al nord c'erano molti draghi, e probabilmente l'oro cominciava a scarseggiare da quelle parti, coi nani che scappavano a sud o venivano uccisi, e con l'aggravarsi della desolazione e della distruzione provocate dai draghi. C'era un drago particolarmente avido, forte e malvagio, chiamato Smaug. Un giorno si levò in aria e volando venne a sud. La prima cosa che udimmo di lui fu un rumore come d'uragano provenire da nord, e lo scricchiolio dei pini sulla montagna che si schiantavano al vento, con alcuni dei nani che per caso si trovavano all'aperto. Per fortuna ero uno di loro, un giovane avventuriero a quei tempi, sempre in giro, e questo mi salvò la vita quel giorno. Bene, dicevo, vedemmo da lontano il drago calare sulla nostra montagna in una nube di fuoco. Poi scese la china. E quando arrivò ai boschi, le sue fiamme li divorarono. Contemporaneamente a Conca tutte le campane suonavano e i guerrieri si armavano. I nani si precipitarono fuori dalla loro grande porta, ma trovarono il drago ad aspettarli. Nessuno si salvò per quella via. Il fiume ribollì di densi vapori e una fitta nebbia avvolse Conca. E la nebbia del drago calò sulla città e annientò quasi tutti i guerrieri. La solita triste storia fin troppo comune in quei giorni. Poi tornò indietro. Si infilò dentro la porta principale e mise a soccuadro tutte le sale, i condotti, le gallerie, i corridoi, le cantine, le stanze, i passaggi. Quando ebbe finito, lì dentro non era rimasto vivo. Neppure un nano. E Smaug si impadronì di tutti i loro beni. Probabilmente già che questo è l'uso dei draghi, ammassò tutto in un gran mucchio nel cuore della montagna per dormirvi sopra come fosse il suo giaciglio. In seguito, prese l'abitudine di strisciare fuori dalla grande porta nottetempo, scendendo fino a Conca per rapire gente e mangiarsela, specialmente fanciulle, finché la città non fu in rovina e tutta la sua gente non fu morta o scappata. Non so con certezza cosa stia succedendo adesso laggiù, ma credo che ormai più nessuno viva vicino alla grande montagna, almeno non oltre l'estremità più lontana del lago lungo. I pochi tra noi che erano abbastanza lontani da salvarsi si sedettero e piansero, tenendosi nascosti, e maledissero Smaug. Poi, inaspettatamente, fummo raggiunti da mio padre e da mio nonno, tutte e due con la barba bruciacchiata. Avevano un aspetto cupo e non dissero quasi niente. Quando domandai come fossero riusciti a scappare, mi dissero di star zitto e aggiunsero che un giorno, al momento opportuno, l'avrei saputo. Dopodiché, ce ne andammo e ci toccò guadagnarci da vivere come meglio potevamo, ora qui, ora là. Troppo spesso costretti a umiliarci, lavorando come maniscalchi o addirittura come minatori. Ma non abbiamo mai dimenticato il nostro tesoro rubato. E ancora oggi che abbiamo messo da parte un bel gruzzolo e non stiamo tanto male e qui Thorin accarezzò la catena d'oro che aveva intorno al collo. Vogliamo riprenderci il nostro tesoro e vendicarci personalmente di Smaug. Se possiamo. Mi sono spesso chiesto come abbiano fatto a scappare mio nonno e mio padre. Adesso mi rendo conto che dovevano avere una porta laterale di cui solo loro conoscevano l'esistenza. A quanto pare fecero una mappa e mi piacerebbe sapere come sia riuscito Gandalf a impossessarsene e perché non sia arrivata a me legittimo erede. Non me ne sono impossessato. mi è stata data disse Thorin Bene, tuo padre me la diede per consegnarla a te e se per dartela ho scelto il momento e il modo in base alla mia preferenza non puoi certo biasimarmi considerate le difficoltà che ho avuto per trovarti. Tuo padre non riusciva neanche a ricordarsi il proprio nome quando mi diede la mappa e non mi disse mai il tuo perciò penso che tutto sommato dovrei essere lodato e ringraziato. Ecco qua disse consegnando la mappa a Thorin Non capisco disse Thorin e Bilbo pensò che gli sarebbe piaciuto dire lo stesso la spiegazione non sembrava spiegare niente Tuo nonno disse lo stregone con una voce lenta e severa diede la mappa a suo figlio prima di recarsi nelle miniere di Moria Tuo padre andò a tentare la sorte con la mappa dopo che tuo nonno fu ucciso ed ebbe gran numero di avventure del tipo più spiacevole ma non arrivò mai vicino alla montagna Non so come vi fosse giunto ma lo trovai prigioniero nelle segrete del negromante E cosa c'eri andato a fare? disse Thorin con un tremito d'orrore e tutti i nani rabbrividirono Non ti riguarda Stavo scoprendo cose come al solito e la faccenda si mise molto male Perfino io Gandalf riuscì a scappare per un soffio Cercai di salvare il tuo padre ma era troppo tardi Era stordito e vaneggiava e aveva ormai dimenticato quasi tutto tranne la mappa e la chiave Lo tempo fa ci siamo vendicati degli orchi di Moria disse Thorin In futuro dobbiamo ricordarci anche del negromante Non essere sciocco È un nemico molto al di sopra delle possibilità di tutti i nani messi assieme anche se potessero essere riuniti di nuovo da tutti i quattro angoli della terra La sola cosa che tuo padre desiderava era che suo figlio leggesse la mappa e usasse la chiave Il drago e la montagna sono pericoli già abbastanza grandi per voi Senti senti disse Bilbo e per caso lo disse ad alta voce Senti cosa Dissero tutti voltandosi di scatto verso di lui ed egli ne fu così confuso che rispose Senti cosa ho da dire Cosa domandarono Beh direi che dovreste andare a est e dare un'occhiata in giro Dopotutto c'è la porta laterale immagino che i draghi debbano pur dormire ogni tanto Secondo me se restate seduti abbastanza a lungo riuscirete a escogitare qualcosa Per quanto vi riguarda beh penso che abbiamo parlato abbastanza per una notte sola Non so se mi spiego Che ne dite di un letto e di partire di buon'ora e compagnia bella Vi preparerò una buona colazione prima che partiate Prima che partiamo vuoi dire disse Thorin Non sei tu lo scassinatore e star seduto sulla soglia non è compito tuo per non parlare di aprire la porta ed entrare Ma sono d'accordo per quanto riguarda il letto e la colazione Prendo volentieri sei uova col prosciutto quando mi metto in viaggio E' fritte non in camicia e bada a non romperle Dopo che tutti gli altri ebbero ordinato la loro colazione senza dire neanche una volta per piacere cosa che a Bilbo seccò moltissimo si alzarono Lo Hobbit dovette trovare posto per tutti riempì ogni stanza disponibile preparò i letti su sedi e divani e finalmente dopo averli sistemati poteva andare a dormire nel suo lettino Molto stanco e non del tutto contento L'unica cosa che riuscì a decidere fu di non darsi la pena di alzarsi presto Per preparare la dannata colazione a tutti il suo lato Tuck si stava rapidamente squagliando e Bilbo non era più tanto sicuro che al mattino sarebbe partito per qualsivoglia viaggio mentre giaceva a letto udì Thorin che cantava piano tra sé e sé nella migliore camera da letto accanto alla sua Lontano sud nebbiosi monti gelati Bilbo si addormentò con nelle orecchie quelle parole che gli provocarono sogni molto agitati era mattino inoltrato quando si svegliò grazie a tutti